Si è chiusa tragicamente la calda domenica di ieri a Campobasso incontrato a Calvario e morto Cosimo Di Niro, 70 anni, conosciuto da tutti nella zona per la sua abnegazione al lavoro e la sua generosità. Anche ieri sera stava lavorando, o meglio, stava rientrando a casa a bordo del suo trattore quando è accaduto l'incidente che gli ha tolto la vita. Inutili i tentativi di salvarlo. Sul posto i vigili del fuoco, una pattuglia della polizia e un'ambulanza del 118, ma il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. L'incidente è avvenuto nei pressi della chiesa di Contrada Calvario, zona al confine tra la parte nord di Campobasso e Ripalimosani. Cosimo Di Niro pare stesse percorrendo una stradina laterale quando, all'altezza probabilmente di una pensilina destinata alla fermata dei bus, sarebbe finito nella cunetta, non riuscendo ad impedire che il mezzo si ribaltasse. Ma questa è soltanto una delle prime ipotesi ricostruite dagli inquirenti giunti sul posto. Sta di fatto che purtroppo per Cosimo Di Niro non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia si sono precipitati i familiari del settantenne assieme ad amici increduli e sconcertati da quanto accaduto. Il magistrato non ha disposto l'autopsia. I funerali saranno celebrati domani mattina alle 10.30 nella chiesa di San Paolo. Grazie a tutti.